Eccoci, cominciamo la seconda parte, il secondo incontro del Maggio Digitale, oggi è il 13 maggio del 2023. Questo secondo incontro è stato registrato stamattina, purtroppo la prima metà è andata persa per un problema tecnico, quindi in questo momento sto, io sono Salvatore Randazzo e sto registrando nuovamente la prima parte che è andata persa. Oggi parliamo del mondo di Google, il mondo Google, il mondo Google perché si parla di Google? Perché alla fine per i non professionisti, per quelli che sostanzialmente usano come informatica, usano il telefono e magari il computer, ma Google è la base su cui si appoggia gran parte dell'informatica che si può utilizzare con un telefono o con uno smartphone. Quindi parliamo di questo, Google è una delle grandi famiglie dell'informatica, c'è Google di cui parliamo oggi, ma ce ne sono tante altre, c'è Apple ad esempio, Apple per tutti coloro che usano i dispositivi della grande mela, quindi della mela morsicata più che altro, quindi i telefoni Apple, gli iPad, i tablet iPad, oppure addirittura i più sofisticati, quelli che fanno design o musica che usano il Mac, ecco questo è il mondo Apple. Poi c'è Microsoft, Microsoft è il sistema operativo presente sulla quasi totalità dei computer per uso personale o per uso professionale, Microsoft Windows vi dirà qualcosa. Poi c'è Amazon, Amazon la conosciamo perché è una piattaforma di vendita online, su Amazon potete comprare praticamente tutto, però Amazon fornisce anche un fornitore di contenuti, dove per contenuti intendiamo film, serie tv, musica, Amazon music, tanto, tante cose. Oltre ad Amazon poi c'è Facebook, che non vuol dire solo Facebook, Facebook è diventato parte di una galassia che si chiama Meta, c'è anche Instagram, c'è anche Whatsapp, quindi è tutta una galassia. Sono quelli che stanno sviluppando il metaverso che ancora non abbiamo saputo dove andrà a finire. E poi c'è Netflix. Netflix è la piattaforma per eccellenza dei contenuti intesi come film e serie televisive, la piattaforma per eccellenza. Per andare avanti dobbiamo introdurre un altro concetto che l'abbiamo introdotto fra le righe nell'incontro precedente di sabato scorso, è l'architettura client server. Non vi spaventate, non è niente di così complicato. Client server vuol dire che ci sono dei clienti e che c'è dei servitori. I server sono questi computer che vedete qua, organizzati in righe e colonne. Vedete che ogni colonna ha circa 12 server, grosso modo, sì, dovrebbero essere circa una dozzina. Ogni colonna ha 12 server, ogni cassetto di questi che sembra un videoregistratore è un server. E di queste colonne ce ne saranno che cosa? Una quarantina, grosso modo, no? O una trentina. Quindi immaginate quanti server ci sono solo su questo corridoio qua. Immaginate che ogni server farm, quindi ogni azienda che mette a disposizione i suoi server, di questi corridoi ne ha 4, 5, 6, 10, 20, dipende dalle dimensioni. Quindi immaginatevi quanti server ci sono nascosti al di là dei fornitori, quelli che abbiamo chiamato l'altra volta le fabbriche dell'informazione. Le fabbriche dell'informazione. Ecco, sono questi server qua. Questi server che comunicano con chi? Comunicano con i nostri dispositivi personali, comunicano con i tablet, i telefoni, i computer. C'è una comunicazione. Dal lato dei server, a chi appartengono questi server? Ma a tutti i formatori di informazione. Google, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Netflix, Whatsapp, eccetera, eccetera. Anche le aziende che non fanno informazione, ma tipo le ferrovie dello Stato, che comunque hanno il loro sito su cui voi andate a cercare l'orario o a fare le prenotazioni, e devono avere dei server anche loro da qualche parte. Tenete presente che i server vengono affittati. Ad esempio, le piccole aziende non si fanno i loro server. Una volta sì, ma adesso non si fa più. Si prende in affitto uno di questi server, da chi mette a disposizione i server. Amazon, ad esempio, che è nata vendendo libri e dischi, poi dopo ha sviluppato il suo grandissimo commercio online, è diventata espertissima di server e adesso affitta i propri, non i propri, i server. Una parte del suo business, una grossa parte del suo business, è affittare i server a chi ne ha bisogno. Quindi c'è questa architettura che abbiamo detto client-server. Dal lato server, cioè il lato server dove ci sono i fornitori, le fabbriche dell'informazione, dall'altro lato ci siamo noi, il lato client. Noi siamo i clienti e le grosse aziende dell'informatica sono i nostri servitori, così dovrebbe essere. Cosa c'è in mezzo? Ma c'è internet, che io la rappresento sempre come questa antenna. Perché? Potrei usare un cavo di fibra ottica come analogia, però il problema è che il futuro sarà delle antenne. Perché? Ma perché è evidente e molto più facile mettere un'antenna in un quartiere che non tirare tutti i cavi di fibra ottica. Se è fibra ottica o i cavi telefonici, eccetera. Voi montate un'antenna sul tetto di un palazzo in un quartiere oppure in un paese, montate un'antenna, superate le proteste di quelli che chiaramente protesteranno perché è brutta, perché non ci piace, perché è pericolosa, perché ci fa venire il cancro, eccetera, eccetera. Queste obiezioni sono state sempre superate fino a questo momento e lo saranno anche in futuro, è facile pensare. E quindi noi internet la distribuiamo grazie a queste antenne, attualmente anche grazie alla fibra ottica. In futuro sarà sempre di più grazie alle antenne dei cellulari. Per cui le grandi aziende dell'informazione comunicano con le antenne dei cellulari che comunicano con noi. Com'è questa comunicazione? Da noi, dai nostri dispositivi, parte una richiesta e da loro, dal lato server, arriva la risposta che viene visualizzata sullo schermo dei nostri dispositivi. Vi faccio un esempio. Dovete prenotare un biglietto del treno o dell'aereo su Ryanair perché andate a trovare vostro figlio in Svezia? Molto bene, voi sul vostro telefono o sul vostro computer vi collegate al sito della Ryanair che sarà qua a sinistra e avrà i suoi bei server. Il server risponderà con una pagina che arriverà sul vostro dispositivo a destra su cui voi potrete vedere tutti i voli e andrete a scegliere il volo che preferite. Questa è la modalità client-server ed è come funziona l'informatica sostanzialmente. Torniamo a Google Torniamo a Google che vedete qua ho aggiunto una parola che è Alphabet. Perché? Perché prima è nata Google col suo bel motore di ricerca e poi è nata Alphabet perché Google stava diventando troppo grossa. Allora hanno detto qualcosa lo lasciamo sotto Google qualcos'altro lo mettiamo sotto Alphabet. noi vedremo ancora per molto tempo solo Google di Alphabet non ne sentirete parlare più probabilmente. Google è motore di ricerca ma è anche il sistema operativo dei dispositivi il sistema operativo dei dispositivi dei telefoni dei tablet e anche delle tv Android delle smart tv non tutte alcuni produttori si sono fatti il loro sistema operativo altri hanno detto ma c'è già pronto Android perché devo farmi un sistema operativo devo stare a diventare matto a farmi il sistema operativo uso Android e per questo ci sono molte smart tv oggi che si chiamano Android tv si chiamano Sony si chiamano ancora però dentro nascosto dentro la loro pancia hanno il sistema operativo Android che cos'è un sistema operativo? questa è una domanda difficilissima un sistema operativo è lo zoccolo su cui si appoggiano tutti i programmi che fanno qualcosa ok? voi installate l'app che ne so di Whatsapp l'app di Whatsapp vuole un sistema operativo sotto per comunicare col telefono il sistema operativo è Android l'altro sistema operativo degli altri telefoni è iOS per quelli che hanno Apple ma la gran parte del mondo utilizza Android anche perché i telefoni costano meno mediamente qual è la differenza fra Apple e Android? Apple mediamente funziona meglio ecco diciamola così proprio secca secca Google col sistema operativo Android mette a disposizione dell'utente tutta una serie di app vedete che c'è Maps qua in alto poi c'è YouTube poi c'è Search ce ne sono tante c'è Drive c'è Photo c'è Gmail c'è Chrome ecco tutte queste app sono quelle che servono a fare un qualche lavoro per esempio Translate che vedete qua in basso al centro Translate serve a fare le traduzioni sia a voce che scritte le traduzioni quelle le piccole traduzioni non aspettatevi di usare Translate per tradurre un libro però per tradurre qualcosa a voce ad esempio per parlare con uno straniero potete usare Translate sia a voce che scritto questa è una cosa molto 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 importante allora grosso modo tutto il traffico che si svolge fra i client e i server parte utilizza il browser che cos'è il browser? il browser è il navigatore l'avevamo già intravisto la volta scorsa c'è un browser solo? no ce ne sono tanti così come ci sono tante automobili uno vuole la 500 l'altro vuole la Volvo l'altro vuole l'Alfa Romeo l'altro ok ognuno si sceglie il browser che vuole se comprate un telefono Android vi verrà dato così in dotazione spontanea Chrome che è di Google perché ricordatevi Android è il sistema operativo di Google molto bene se comprate un iPhone quindi un telefono Apple vi verrà dato Safari come 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 navigatore come navigatore fornito di default però potrete installare quello che volete che differenza c'è fra un browser e l'altro banalmente Safari è quello che Apple si è fatto in casa Chrome è quello che Google si è fatto in casa Microsoft Edge che vedete qua in basso al centro è quello che si è fatto Microsoft poi c'è Brave che è stato fatto per dare una protezione in più per navigare un po' più in anonimato c'è Tor che è fatto proprio per gli Akebr quelli che vogliono lavorare senza lasciare traccia di quello che fanno Firefox era piuttosto veloce una volta poi un po' alla volta ha perso di smalto uno usa il navigatore che vuole io ad esempio uso Brave perché mi piace di più e lascia meno tracce mi protegge un pochettino di più cosa vuol dire non lasciare tracce non è tanto perché uno vuole fare delle cose proibite guardare i siti porno oppure cercare la formula della bomba atomica o cose di questo genere la questione è che più tracce lasciate più i grandi le grandi aziende dell'informazione vi bombardano con pubblicità non richieste e ogni volta che voi prendete in mano il vostro telefono ricevete delle pubblicità delle notifiche delle email venite bombardati da pubblicità non richiesta giusto per questo motivo è meglio usare Brave che vi mette un pochettino al riparo da queste seccature ecco questo per per dirla facile facile come funziona un browser l'abbiamo già visto prima questa qui è un'immagine che abbiamo visto prima ogni volta che voi fate una richiesta sul vostro dispositivo che avete in mano o sul computer sulla scrivania parte una richiesta che raggiunge il server giusto e torna indietro una risposta se volete comprare che ne so un libro andrete sul server di Amazon dice ma come faccio io a sapere qual è il server di Amazon non lo dovete sapere basta che voi scriviate Amazon e automaticamente la rete cioè vi manderà sul server giusto questa è una cosa trasparente voi mandate la richiesta e ricevete la risposta vediamo ad esempio come lavora Chrome che è uno qualsiasi dei browser eccolo qua questo è Chrome su computer infatti vedete che è bello largo non è verticale come un telefono immaginiamo che io voglio andare a cercare il patronato Acli allora da qualche parte ho letto che l'indirizzo è patronato.acli.it molto bene allora lo scrivo nella barra degli indirizzi ci scrivo patronato.acli.it questo qui perché lo so già l'ho letto da qualche parte l'ho scoperto da qualche parte e quindi me lo ricordo che ne so fra l'altro è abbastanza facile ricordarsi questi indirizzi perché patronato.acli vuol dire che sto cercando il patronato di Acli e Acli è in Italia .it vuol dire Italia quindi può rimanere in mente nel momento in cui io scrivo patronato.acli.it qua nella barra e faccio una richiesta precisa il browser mi dà subito il contenuto del sito richiesto qualunque browser non solo Chrome oggi stiamo parlando di Google e quindi parliamo di Chrome però è importante capire che qualsiasi browser mi dà questa risposta quindi quando voi andate su un sito se volete andare su Ryanair scriverete www.rayaair.com sono i siti commerciali in tutto il resto del mondo oppure it se è in Italia e così via e quindi voi se lo sapete già scrivete l'indirizzo completo qua sopra nella barra e quindi vi verrete portati direttamente al sito di Ryanair o delle ferrovie se non lo sapete fate una richiesta generica cioè andate su Chrome e scrivete qua sopra google.it verrete portati al sito di Google del motore di ricerca dove qua nella casella di ricerca scriverete quello che volete sapere tipo piante anti-zanzare prima di andare via di andare a vedere il risultato della ricerca vediamo un po' di altre cose tipo la ricerca vocale se voi fate click su questo microfono e avete un microfono a disposizione ormai tutti i computer hanno un microfono oltre che una telecamera se avete il microfono potete fare la ricerca parlando invece che scrivendo con la tastiera oppure potete fare una ricerca per immagini questo ci verrà utile poi perché lo vedremo con Google Lens oppure volete andare su Gmail qua c'è una scorciatoia qua volete fare una ricerca di immagini qua ci sono tutti gli altri strumenti Gmail Drive tutti gli strumenti di Google e poi dopo vabbè questo per fare il login la lasciamo perdere quindi una volta che noi scriviamo facciamo una richiesta qua scriviamo piante anti-zanzare vediamo cosa succede eccolo il risultato abbiamo chiesto a Google dimmi qualcosa sulle piante anti-zanzare Google ci dice ho trovato 473 mila risultati e ci ho messo 33 centesimi quindi un niente qua ci dà un risultato che l'ha trovato su un certo sito che si chiama Roma Today sa il cielo ce ne sono altri che non vediamo che sono sotto uno fa lo scrolling famoso qua a destra qui ci mette una fotografia di una qualche pianta anti-zanzare qua a destra ci mette le pubblicità e sì perché Google si ripaga anche con la pubblicità quindi ti mette la pubblicità delle trappole per zanzare che potete comprare a 68 mila a 68 euro dall'Eroa Merlin un'altra trappola per zanzare che potete trovare a 59 euro quindi costa un po' di meno sembra la stessa cosa a eushop.biogent con una spedizione gratuita e così via ok e se invece vogliamo usare il cellulare se usiamo il cellulare possiamo usare lo stesso Chrome che lo troviamo sotto questo simbolo quindi noi tocchiamo questo simbolo e ci verrà fuori il Chrome sul cellulare qui abbiamo chiesto patronato.acli.it di nuovo per fare la prova e abbiamo ottenuto questa è la richiesta e abbiamo ottenuto questo sito come risposta oppure facciamo una ricerca qualsiasi tipo che ne so qua noi gli scriviamo tipo le piante anti zanzare ed ecco la nostra risposta se ci fate caso è grosso modo la stessa risposta che avevamo avuto prima cosa cambia niente cambia solo la forma questa è verticale e quindi ci sta meno roba c'è meno spazio rispetto a quello di prima che era orizzontale e c'era più spazio infatti uno se può usa il computer per avere più spazio per vedere le informazioni il telefono è un po' piccolino insomma è un po' una galera quindi uno chiede pianta anti zanzare e gli viene questa risposta qua adesso parliamo di una cosa che si chiama google lens google lens permette di fare delle ricerche per esempio di immagine allora vi racconto subito come la prima volta che l'ho usato ero dal ero da un dottore da un oculista ero da un oculista e ho visto una sedia in sala d'aspetto ma che bella questa sedia particolare decisamente particolare ho detto ma vuoi vedere che questa sedia è stata disegnata da un qualche architetto e che ci sono di questi oggetti che sembrano oggetti normali ma in realtà dietro hanno una storia di progettazione fatta da qualche architetto particolarmente famoso eccetera eccetera molto bene allora sono andato a cercare google lens eccolo qua sul mio telefono ho aperto google lens e ho cercato la sedia con la fotocamera ho inquadrato la sedia e mi è venuta fuori la risposta adesso purtroppo non ce l'ho quella sedia lì allora cosa ho fatto ho fatto la fotografia a una bomboletta per fare l'esempio a una bomboletta di lubrificante la bomboletta di lubrificante l'ho inquadrata ho fatto ho toccato il simbolo della fotocamera e lui mi ha risposto così questo è un vd40 questa è la foto che ho fatto vedete che ha messo automaticamente questi angolini per dire questa è l'informazione che stai cercando nel momento in cui io tocco questo lui capisce che è questo quello che voglio e mi dà il risultato ecco il risultato è che mi scrive qua sotto mi dice questi sono i risultati che ho trovato ma ce ne sono altri sotto se facciamo lo scroll troviamo gli altri risultati e mi dice è un vd40 lubrificante qua mi dice un olio lubrificante questo è molto comodo per fare le ricerche al volo ma se avete già fatto la fotografia ad esempio io ho fatto una fotografia di una stampa che ho a casa ho fatto la fotografia di questa stampa la vedete giù in basso la seconda da sinistra nel momento in cui io voglio sapere questa stampa che quadro raffigura glielo chiedo a google lens tocco quella fotografia lui lo capisce me la fa vedere in grande ecco qua ce l'ho ingrandito questa stampa se io gli dico mostra i risultati eccolo lì mostra i risultati lui mi risponde e mi dice ah il risultato è il quarto stato che è un dipinto di Giuseppe Pelizza da Volpedo oppure mi da l'articolo della wikipedia oppure me lo da come quadro da comprare costa 30 euro la stampa e su mercatino la trovo qua quindi io con google lens posso fare la ricerca per immagini non solo non solo ma vedete che qua ci sono tutta una serie di alternative vedremo solo l'alternativa traduzione se io voglio posso usare google lens per fare una traduzione al volo guardate a sinistra vedete sul computer la pagina di un sito web di un giornale polacco non state a guardare catalano perché poi la capisce da sola la lingua allora io vado a premere sul pulsante questo qui che dice scatta una foto alle parole da tradurre se io clicco sul pulsante ottengo la traduzione vedete a destra quello che era polacco è diventato italiano poi che significa e lui ha capito la lingua da solo vedete polacco a italiano quindi questo quando è che vi potrebbe servire tantissimo immaginate di andare a fare un viaggio in Russia dove non solo parlano russo ma scrivono anche seguendo un loro alfabeto che è il cirillico a maggior ragione se siete in Giappone o in Cina e come fate a orientarvi o avete una guida qualcuno che vi porta in giro altrimenti con un dispositivo col vostro telefonino siete in grado di di districarvi un pochettino insomma avete una vita meno grama anche se non conoscete una parola di russo o di cinese o di giapponese ok passiamo adesso a un'altra applicazione che conoscono più o meno tutti google maps google maps la possiamo usare sia in auto che a casa ovviamente sono usi diversi in auto e a casa in auto troviamo l'icona di google maps sul nostro telefono facciamo clic e si apre google maps per me che sono di cascine san pietro mi si apre già più o meno identificando la mia posizione sono qui a cascine san pietro casa mia è qua molto bene allora qui sopra io vado a scrivere la mia destinazione vado a scrivere la mia dove voglio andare ad esempio io voglio andare in un paese che si chiama furato che è dall'altro lato di milano e è andando verso novara da quelle parti lì voglio andare a furato in via santa maria 15 molto bene lo scrivo qua sopra lo scrivo qua sopra via santa maria 15 furato faccio clic su avvia faccio clic su avvia e lui mi darà le indicazioni mi dice vai dritto poi gira a destra gira a sinistra vai di qui vai di là non solo ma mi dice anche che cosa che ci vorrà circa un'ora e tre minuti sono 60 chilometri orario previsto di arrivo 19 e 48 quindi questo e qui sono evidentemente dei valori che verranno aggiornati man mano che io mi sposto verso la mia destinazione diminuirà il tempo richiesto diminuirà la distanza questo il tempo di arrivo invece resterà grosso modo uguale se vado più veloce del previsto invece che 19 e 48 arriverò alle 19 e 45 mettiamo non è che posso rosicchiare molto su un'ora di strada attraversando Milano se trovo un ingorgo questo orario diventerà più lungo arriverò alle 20 e 15 ad esempio a secondo però io google maps lo posso usare anche a piedi sempre la stessa cosa mi viene fuori sempre la stessa pagina però diciamo che io sono nella frazione di Cassano Dada che si chiama Cascine San Pietro e voglio arrivare all'ufficio postale di Cassano allora qua sopra io scrivo ufficio postale di Cassano e invece di dare subito l'avvio faccio clic su indicazioni mi si apre questa pagina dove posso scegliere se voglio andare in macchina o no in treno evidentemente no o se voglio andare a piedi o in bicicletta in base alla mia scelta sono diversi i tempi di percorrenza e lui mi fa vedere ho scelto di andare a piedi bene mi fa vedere le quattro possibili alternative ho il percorso netto che è quello di 40 minuti quello dritto 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 oppure posso fare il giro più largo facendo il giro dall'ospedale eccetera eccetera vedete che qua sotto la storia è sempre la stessa mi dice che ci vogliono 40 minuti se scelgo questo qui e poi gli dirò avvia ok quindi io devo prima dirgli che voglio andare a piedi e poi gli dico avvia nel momento in cui gli dico avvia lui mi darà man mano tutte le indicazioni come per quanto andavamo in macchina mi dice quanto tempo ci vuole quanto tempo manca ancora quanti chilometri mancano e a che ora arriverò grosso modo se arrivo alle 19.31 l'ufficio postale sarà chiuso evidentemente va bene va bene ecco qua street view google maps ha una roba potentissima che si chiama street view cioè mi fa vedere le strade ma me le fa vedere proprio in quadrate allora diciamo che voglio andare a milano in piazza de angeli ok io qua sopra scrivo piazza de angeli lui mi dice volevi dire piazza ernesto de angeli sì esatto se a questo punto io invece di dirgli avvio indicazioni ma faccio click su questo box avrò improvvisamente una visione della zona io posso vedere e posso esplorare la zona come se fossi lì però vedo che già in questa direzione qui vedo che c'è la cosa la fermata della metropolitana mi posso guardare a destra e a sinistra ad esempio qua mi sono guardato a destra o a sinistra a sinistra e qua vedo un'altra parte ad esempio vedo già che se voglio parcheggiare devo andarmi a mettere qua dietro gli alberi a sinistra ci sono delle macchine parcheggiate oppure ne vedo anche qua in fondo a destra di sicuro non sulla sede centrale perché qua passano le macchine e io non potrò parcheggiare questo serve quando vi volete fare un'idea se dovete andare in un posto dove non siete mai stati e volete un pochettino avere un'idea più precisa di come si presenta agli occhi proprio allora potete usare street view vediamo un po' come si usa street view no come nasce soprattutto come nasce nasce perché vanno in giro queste macchine queste macchine hanno questa torretta con delle macchine fotografiche messe sopra vedete queste macchine fotografiche vi permettono cioè schiacciano scattano tutta una serie di immagini che a questo punto voi vedrete in street view come se foste lì tale quale fra poco facciamo la pausa diciamo che google maps lo possiamo usare su pc ecco qua se voi aprite un qualsiasi navigatore e scrivete piazza de angeli milano vi farà vedere la piantina di piazza de angeli della zona di milano se voi fate click su questa piantina ecco lì l'abbiamo scritto venite mandati sull'applicazione google maps e qua ci fermiamo perché a questo punto dopo la pausa caffè ricomincia la seconda parte che sarà stata registrata invece in diretta grazie a tutti